Una delle regine della discografia italiana, diciamolo, e adesso una anche delle regine della televisione, ma cominciamo dall'inizio, il suo inizio. Ammazza, avete tempo? Per lei sempre. No, io vi ringrazio, ma sono veramente passati tanti anni. Io non sono tanto una regina, ho lavorato tutta la vita, ho fatto il discografico, adesso combinazione ho fatto questi talent, ma adesso le regine sono un'altra cosa. Comunque sei stata gentile, raccontare tutta la mia vita qui non ci vorranno sette anni perché sono una vecchia signora, non come la Cappannina, ma quasi. Allora ci dico una cosa, dei favolosi anni settanta, lei cosa ricorda di quegli anni? Veramente io mi ricordo dei favolosi anni sessanta, perché come ho detto non è che mi ricordo una cosa fantastica, la Cappannina era sempre bella uguale, forte altrettanto, per cui devo dire è una continuità che mi piace mantenere, e vengo sempre al mare, al forte da tantissimi anni, anche quando nessuno mi riconosceva. Però è stato negli anni settanta che ha cominciato a lanciare alcuni dei cantanti più famosi? Ho cominciato a lavorare nella discografia nel 67 e devo dire poi ho lavorato con Battisti, con tanti altri artisti e devo dire mi sono divertita, ho avuto fortuna. E dalla musica italiana alla musica internazionale, la disco music, le piaceva? Assolutamente sì, è stato un lungo percorso della disco music, gli italiani sono stati dei grandi produttori di disco music, io non sono mai stata una specialista, confesso, però devo dire ho ascoltato con piacere. C'era un suo pezzo preferito dell'epoca? Beh devo dire che tutto il Philadelphia Sound, questo tipo di movimento mi piaceva molto, fino a Barry White che è stato un grandissimo maestro di un certo tipo di musica. Un ultimo favore, per noi in camera ce lo dice I Love Disco? I Love Disco, così. Grazie mille. Vengo, ciao.